Due importanti menhir si trovavano nei pressi del vicino borgo di Anfiano, tanto che hanno assunto lo stesso nome. Dei due menhir, Anfiano 1 e Anfiano 2, purtroppo ne rimane solo parte del secondo. Il Salento è un luogo misteriosamente ribollente di dolmen e menhir ed è quindi uno dei luoghi con la più alta concentrazione di tesori megalitici millenari, ovvero di testimonianze megalitiche di interesse mondiale. La presenza antica dell'uomo nei pressi del territorio di Cannule è testimoniata da queste maestose presenze, o meglio, da quel che oggi ne rimane.